Signori, benvenuti in una nuova puntata nuova di Resident Evil Remastered. Allora ragazzi, nella scorsa puntata abbiamo raggiunto questa piccola zona, diciamo, della casa del custode. Abbiamo trovato anche un libro relativo a delle medicine, che per l'appunto sono, penso, no, no, non è questo, questo dovrebbe essere, no, non è neanche questo, questo qua, che praticamente ti spiega un attimino quello che dovremmo cercare di fare, secondo me, per eliminare la pianta. Abbiamo diverse sostanze, abbiamo la 3, la 6, la 7, la 10, la 17 e la 20, perché il VG volta è la 20, diversi colori, e in poche parole, la possibilità forse di mischiarle? Non lo so, non ne ho idea. A mio certo non mi serve la bottiglia vuota. Molto strano. E poi tra l'altro, c'erano delle scritte nei muri, che praticamente ti, c'erano delle operazioni, c'erano molto molto stupide, perché alla fine ci sono tutte comunque scritte, cioè operazioni giuste basilari. Però abbiamo preso tutto. Ma, raga, l'unica cosa che mi rimane da fare è quella del libro, però, 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 Grazie. Non abbiamo trovato libri, vero? Non abbiamo trovato un libro. Cioè, io mi ricordi non avevamo trovato dei libri, o sì? Allora, la mappa è tutta completa, cioè tutta verde, quindi un po' mi fa venire il dubbio, scusa, eh? Sulla Stars, poi, cioè, anche questo mi fa un attimo pensare, eh? No, vai, 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 Chris. Ma che poi, ora che ci penso, quel libro, ma non l'avevamo visto anche Resident Evil 3? Sapete, raga, che mi sta venendo davvero il dubbio? Vabbè. Però, vediamo nel baule, se c'è qualche oggetto chiave che effettivamente ci manca da usare, Allora, per il momento ci cureremo utilizzando l'erba. Ma, oh, raga, a furia di, eh, comunque... Allora, io salverei, perché... Allora, non ho salvato nella puntata precedente, quindi... Quindi rischierei comunque di crepare male. Potrei direttamente salvare... No, però mi porto un nastro. Un solo nastro. Come... Non posso prendere uno solo? No. Dopo, per forza, portarmene otto. Allora... Preferirei salvare qua, raga. Lasciare, ovviamente, i nastri dietro, cioè, perché se no sarebbe comunque uno spreco di spazio nell'inventario. E, ripeto, non abbiamo tutto questo spazio in più per poterci giostrare con il nastro, così, nel mondo di Resident Evil. Ok. Andiamo a poggiare queste qui. Abbiamo un'erba che comunque ci cura anche dal veleno. In realtà... Un po' uno spreco. Perché... Vabbè. Comunque. 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 ok proviamo ad utilizzare il libro stampato ovviamente si collega sembrano formare un disegno scambiare due libri ok allora vediamo un po' sembrerebbe una donna no? quindi questi questo lo metterei qua poi si questo qui e questo qui ok il fatto che mi faccia salvare in questa stessa stanza mi dà un po' da pensare però ok Chris! Ma a proposito La videocassetta C'è Dominchia Allora Allora, cioè questa cosa Mi piace, che comunque mi faccia usare Anche lei Ma quindi se Ti serve un contenitore UMP3 Bottiglia vuota Ok Sono uguali o che cosa? Sembrerebbero uguali Allora A noi ci serve Il Il 20 No? Però dobbiamo effettivamente capire Allora qua abbiamo UMP3 No? Allora L'UMP3 È rosso Ma c'è il file Se non sbaglio Ce lo diceva nel file Di che colore Comunque Allora Allora Il giallo 6 È Giallo Va bene L'UMP3 7 È verde L'UMP3 10 È arancione Il VP 017 È blu Quello che ci serve Il 20 È marrone Scuro 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 Può capire Precisi Allora Tuttavia È necessario Prestare massima Attenzione Durante l'utilizzo Delle sostanze chimiche UMB Poiché Generano gas tossici Se non sono trattate Correttamente Il VGVOLT Può essere utilizzato VVP E UMB In dosi ben specifiche Non vedo il nome Di VGVOLT VGOLT Ok VGOLT Allora Quindi questo Era l'UMP3 Questo Giallo 6 Quindi giallo Abbiamo Rosso e giallo Altro non abbiamo Quindi il giallo È 6 6 6 12 Però il 12 Non ce l'abbiamo Dobbiamo stare attenti Perché Allora Abbiamo 3 e 6 Il 9 Non c'è nella lista Quindi potrebbe essere Uno di quelli tossici Dobbiamo ragionare così Mentre Il 6 Più 6 È 12 E anche quello Non ce l'abbiamo Però 3 e 3 Da 6 Quindi non ha molto senso Che io rifaccia il giallo A meno che Aspetta A meno che non ci sia un'altra Un altro flacone Ah L'acqua era 1 L'acqua era 1 Ok L'acqua era 1 Acqua Ecco Oh L'acqua era 1 Quindi c'è qualcosa In più Perfetto Quindi possiamo fare Effettivamente Giallo Più Uno Ci dà verde In teoria Giusto? Puoi prendere anche la bottiglia A volte Puoi prendere anche quella Ma l'acqua Scusa C'è dell'acqua Dentro la bottiglia Sì E se io tipo Combinassi questo Con questo Ottengo L'UMB Numero 7 Sì Lo so Lo so Ciccio Quindi adesso Io posso Prendere Effettivamente Il Rosso Questo qua E poi fare Combinare Con questo No Aspetta Aspetta Le 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 Ok 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 Ci sono Ci sono le operazioni Che noi possiamo Effettivamente fare Quindi non tutte le operazioni Possiamo farle Ok va bene Va bene Acqua E questa va bene Poi Giallo E questo va bene Quindi questi Li combiniamo Perfetto Poi Il 3 Possiamo fare Solo 1 più 3 E ottenere 4 Noi abbiamo ottenuto 10 Allora Noi abbiamo ottenuto 10 Adesso No No abbiamo ottenuto 7 Dobbiamo ottenere 10 Quindi Giallo Ok Dobbiamo fare Il giallo Più Questo Più L'acqua L'acqua L'abbiamo già presa No Non l'abbiamo presa Quindi Sì Perfetto Più Il giallo Perfetto Ora devo unire Il giallo Che è 6 Dopo lo devo unire Però posso fare 1 più 3 Lo posso fare Quindi Combina questo Con questo E ottengo L'NP004 Ora Questo Lo combino Con lui E ottengo L'UMB Numero 10 Ora Questo Lo posso Combinare Con lui E ottengo Il WP017 Ok Quindi Adesso Prendendo Questo Perfetto Posso fare Questo Più questo E ottenere Il WJOLT E' un liquido Di colore Marrone Non scuotterlo Però Perfetto Possiamo andare Non so Se è tipo L'inventario Me lo posso Tenere così Pieno Oppure Cosa Boh Vabbè Vai Dai su Dai su Paolino Eh Sei uscita Da lì Scusa Ma Mi prendi Per il culo Di colore Marrone Eh Ho capito No No Vedrai Da da quel buco Credo L'unico No Ok Ok E se io potessi fare così Ma Tutte le ha gettate Ok Insomma Il comando Non può essere più Utilizzato Cioè Guardate Finale Finale Nowe Sodo V2B Cioè Mmm Mmm Grazie a tutti. Ma è ancora vivo? Un ca di mortacci. Ma io voglio dire, ma devo ammazzarla per forza o che cosa? Non vuole aprire. Non è questa? Sì, questa sì. Ah, ok. Però posso rientrare. To' a zia. Non capisco cosa devo fare, però. Cioè, a parte sparargli, non so cosa fare. Figgio. Alzati. Mamma mia. Stiamo calmi. Stiamo molto calmi. Sì, è il momento di usare la Magnum. Penso proprio che sia arrivato quel momento lì, raga. Cioè, tutto quello che volete, ma... Non è... Non è... Non... No. Non so se... Non lo so, raga. Ma scusa, ma io ho fatto quella medicina. E in teoria l'ho eliminata. Perché è ancora viva? Ok, da qua non esce più. Quindi tipo... Non si è più radicata dentro la casa. Quindi... Abbiamo detto. La bella Magnum. Non te la leva a nessuno. Dammi anche le cariche. Aia. Un colpo con la mano. Ma... No. Facciamo Erbe Mist. Poi... Facciamo... Non penso... Che comunque il gioco mi faccia... Ok. Facciamo così. Cioè, non penso che sia così stronzo... Da volermi far fare per forza di cose... Allora... Parte il fatto che... Sarebbe già dovuta crepare, no? La piante... La piantina... Sarebbe già dovuta crepare male. Però... Non so perché... Non credo dipenda dal tempo che... Ci mettiamo con Rebecca a fare la medicina. Beh... Non credo. Perché alla fine la pianta sta lì. Quindi... Quello che... Più che altro... Serve a noi per farla in fretta... È che così non muore Chris. Se poi sempre si può morire. Sando il personaggio principale del gioco. A parte le morti... Perché viene... Ucciso, diciamo, dai mostri... E dagli zombie... E dai... Dai quant'altri. E quindi... E... 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 Cazzo... la magnum e pur sempre la magnum ok non so effettivamente però cosa ci sia da fa qua perché magari me li posso anche risparmiare i proiettili della magnum ma non riesco a capire cosa ci sia da fare qua cosa non troppo della pianta ma c'è una chiave ok chiave della vita ma tu mi hai fatto venire fino a qua perra grazie boh vabbè raga io sono rimasto un po basito infatti vi prenderete tutti ah scusate tu sei ok yeah i think we got to the root of that problem i owe you kid i'm glad i could help rebecca chris this is richard's radio a moment ago there was a conversation brad's still flying around but i don't think he heard me ok i'll keep the radio we have to somehow let brad know about Il nostro chissà la fidanzatina Sì però mi devi dire dove Dove sei andata Allora se non sbaglio Lei dovrebbe Trovarsi nella villa Dove abbiamo preso il siero Né più né meno Ragazzotti io vi saluto La puntata di oggi finisce qui Anche perché ne devo registrare un'altra Sono le due e un quarto del mattino Io reagisco Registro ovviamente Dei malloppi di puntate Che poi vado a montare in seguito Perché purtroppo il tempo a mia disposizione È poco Per il momento è tutto raga Io sono Matt E ci vediamo alla prossima Grazie a tutti